Buona serata, buon viaggio, muoversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio. Attenzione alla pioggia, si raccomanda di rallentare per tratti bagnati, rispettare le distanze di sicurezza. Segnalato un incidente in A12, siamo tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Ci sono rallentamenti in A11, la Firenze-Pisa tra Pistoia e Monte Catini in direzione di Pisa. Ci spostiamo sulla FIPI lì dove troviamo Code e Consuete tra la Strasigna e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Firenze. C'è un mezzo pesante fermo in A1, possibili rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Chiudiamo con i lavori a Firenze. Domani un divieto di transito in Borgo dei Greci, da Piazza San Firenze a Via del Palaggio e un restringimento di carreggiata in Via dei Leoni, provvedimenti in vigore dalle 9 alle 19. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Muoversi in Toscana, Città Metropolitana di Firenze